Da quasi dieci giorni ormai è iniziato il tempo di quaresima. È un tempo che a volte consideriamo triste, troppo mortificante, penitenziale, fatto solo di digiuni, di privazioni. Non è assolutamente vero, perché è un tempo per tornare alla luce. E il Vangelo di questa domenica lo indica in modo forte e chiaro. La vita spirituale consiste nella fatica di uscire da un buio che soffoca la nostra vita e da una apatia che la anestetizza sempre di più. Allora la parola chiave della quaresima deve essere cambiamento, conversione, più che penitenza. Forse la vera penitenza è il voler con decisione cambiare vita. Il voler veramente convertire la nostra vita. Per una vera conversione dobbiamo lasciare l'io e fare spazio a Dio. E questa a volte può essere considerata anche una violenza nella nostra vita. Troppo spesso pensiamo di sapere come gestire al meglio la vita. E poi ci troviamo, come al solito, impantanati, al buio, soffocati dalle vicessitudini della vita. La vera conversione è non dire solo di essere cristiani, ma di mettere in pratica e vivere veramente la parola di Dio, la Sacra Scrittura, il Vangelo. E il Vangelo di oggi, di questa seconda domenica di quaresima, chiede un primo grande passo. Vedere la luce, vedere la bellezza, vedere i talenti in noi stessi e negli altri. E per fare questo tutti siamo chiamati a salire su un monte con Gesù, il Monte Tabor, quello che viene presentato nel Vangelo di questa domenica. Non siamo chiamati a portare sempre Gesù dove vogliamo noi, nei nostri terreni, nei nostri desideri. Ma dobbiamo farci condurre da Lui senza paura, ma con fiducia, come un bimbo dalla mano al papà, quando cammina e non sa dove andare. Dobbiamo, in questo tempo di quaresima, vedere le cose da un'altra prospettiva, non con gli occhi dell'uomo, ma con gli occhi di Dio. Noi non siamo la somma delle cose che riusciamo a fare, sul lavoro, in famiglia e anche in chiesa. Noi siamo creature che desiderano l'infinito, la pienezza, la pace interiore. Il Tabor, il monte dove Gesù ha accompagnato i discepoli in questa domenica, è il luogo per scoprire Dio. Se non trovi tempo per Dio, non starei mai bene, nemmeno con il tuo io. E il Vangelo di questa domenica, dopo la salita al monte Tabor, presenta la grande manifestazione di Gesù, la trasfigurazione. Gesù, col Vangelo di questa domenica, ci dice, puoi anche frequentarmi tutta la vita, ma forse non mi hai mai visto veramente. Perché nella fede ci sono due strade che possono o meno trasfigurare la vita del cristiano. La prima è vivere una fede tiepida, stanca, fatta di routine, senza entusiasmo. E la seconda invece è vivere una fede vera, forte, coraggiosa, convinta, che infiamma. Ecco, la quaresima è il tempo del combattimento, del tornare alla fede vera, quella incisiva, in modo serio e non solo di apparenza. Di fare uno sforzo vero, di trovare il tempo per Dio e per stare con Lui. Gesù, in questa domenica, ci invita a fare qualcosa di straordinario, che spesso diamo per scontato, cioè la preghiera. Gesù sale sul Tabor per pregare, insieme ad alcuni suoi apostoli. Quanto è importante trovare il tempo per pregare. Non è mai tempo perso, non è mai tempo inutile. La preghiera non si vede, non si dimostra, ma funziona. Facendo un esempio un po' basso. È come la benzina per le auto. Non la vediamo, ma le fa andare avanti. È come il sangue nel nostro corpo. Non lo vediamo, ma è essenziale per vivere. È come l'ossigeno. Non vediamo questi elementi, ma sono elementi che danno vita. Gesù porta i suoi discepoli a pregare sul Tabor per far loro capire che la preghiera non è un ritaglio di tempo, ma è un tempo da ritagliare per vivere pienamente la vita. I discepoli, come ognuno di noi, ne abbiamo bisogno della preghiera per crescere veramente nella vita spirituale. Abbiamo bisogno di pregare per capire chi è veramente Dio e come Dio parla nella nostra vita. Abbiamo bisogno di pregare per ascoltare Dio e non per comandare Dio secondo i nostri bisogni. E nel Vangelo di questa domenica c'è una bellissima fotografia di fede. La fede di Pietro, di San Pietro. Lo stupore di Pietro ci fa capire come approcciare la fede. Siamo chiamati tutti a vedere la trasfigurazione, cioè a vedere un Cristo che ci riempie di luce, ci riempie la vita di luce, ci riempie il cuore di speranza. L'entusiasmo di Pietro ci fa capire che la fede, per essere vera, per essere viva, per essere forte, deve discendere dallo stupore, da un che bello. Infatti Pietro, davanti alla trasfigurazione, dice che è bello per noi stare qui. Una fede noiosa non è una vera fede. La fede deve entusiasmare, deve rassicurare, deve infiammare. Non a caso Papa Francesco, ad Assisi, gridò con coraggio che la fede si trasmette per attrazione. Allora, possiamo vedere che il cammino quaresimale è la fatica di liberare tutta la luce sepolta nella nostra vita. Vivere la fede significa acquisire la bellezza del vivere. Tutti siamo chiamati a sperimentare la bellezza di Dio. E per farlo dobbiamo ritagliarci degli spazi di fede vera. O ci si mette veramente in gioco, oppure si resterà cupi. Sovente ci si allontana dalla Chiesa, a causa di una tristezza e di una tiepidezza, a dir poco, imbarazzante. Il Vangelo di questa domenica ci chiede uno sforzo vero. Ci chiede di essere messaggeri di fede, di speranza e di carità nel mondo. Ci chiede di essere testimoni coraggiosi e non tiepidi della nostra fede. Ci chiede di essere cercatori veri di Dio, donandogli tempo e fiducia. Ci chiede di essere discepoli del Vangelo, senza paura delle reazioni altrui. Per fare tutto questo dobbiamo avere il coraggio di lasciare la pianura della mediocrità e salire sul Monte Tabor. Una salita che può essere faticosa, ma che porta alla bellezza di Dio, a essere luminosi come Dio nella trasfigurazione.